Ciao Luca, siamo in quattro, che ci dà da mangiare con 60 euro? Siete in quattro e con 60 euro ti do una cacio e pepe, una carbonara, una griscia e una matriciana. Poi mica ti posso far solo mangiare quattro boccette d'acqua, un sorbetto al limone e ti do tre belle fette di crostata. Con 60 euro ti do questa.